Studio 7 TV e Sport Piccelo Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Benvenuti alla puntata abbiamo ospite una band, una band di giovane, una giovane band metal e a questo punto abbiamo ospite Mattia Vocal e Basso, la prima domanda che ti poniamo più semplice, se ci dovessi descrivere chi sono i final stage o stage finale, come li descrivesti a chi ti ascolta e soprattutto per chi non vi conosce ancora? Allora, noi siamo una band alternative metal della provincia di Venezia che porta dei pezzi alternative metal, quindi con influenze che vanno dagli Evanescence ai Linkin Park, anche su cose un po' più lontane come gli Iron Maiden o i Pink Floyd per certi aspetti, che porta appunto questa musica con dei testi che trattano temi principalmente sociali e in particolare centrati su quello che è il nostro vissuto, essendo noi tutti quanti ragazzi molto giovani, la nostra età media della band è 18 anni. Quindi noi cerchiamo di portare temi che siano il più possibile vicini a quelli che possono essere i problemi dei ragazzi della nostra età, che quindi possono andare dalla solitudine alla non capacità di credere nelle proprie possibilità, all'amore anche su certi pezzi, al risentimento, alla depressione, tutti questi tipi di aspetti che noi cerchiamo di trattare appunto sperando che chi ci ascolta possa riconoscersi e capire il nostro messaggio che cerca di essere il più possibile positivo. E a questo punto parliamo intanto della vostra attività, ultimamente avete fatto solo singoli, nel 2023 sono usciti due singoli e l'ultimo del 2024, Un Amore Infinito, Endless Love. Come nasce questo brano? Da dove avete tratto ispirazione? Visto che l'amore in fondo è effettivamente infinito, o è finito? Sì, Endless Love è una canzone un po' particolare nella quale abbiamo preso di ispirazione la storia di due persone molto vicine a noi. Appunto siamo stati molto colpiti da questa storia in cui appunto ci ha fatto sperare nel fatto che l'amore possa effettivamente essere infinito, perché appunto questa coppia di persone erano prossimi sposi, quindi già fidanzati e pronti a iniziare una vita insieme, però purtroppo a lui è capitato un brutto incidente che lo ha costretto in una situazione molto particolare, molto delicata in fin di vita e nonostante questo la ragazza in nome appunto di questo amore fortissimo che aveva per lui ha deciso di sacrificare quelle che potevano essere tante possibilità della sua vita per stargli accanto e per non lasciarlo da solo, nonostante tutte le difficoltà che sapeva sarebbero arrivate. Quindi questa storia racconta un po' i sentimenti, le sensazioni che lei può aver provato, perché appunto abbiamo avuto la fortuna, essendo persone molto vicine a noi, di averci potuto parlare molto e capire bene quale fosse la situazione, le sensazioni e abbiamo voluto raccontarle con questo pezzo, celebrando una decisione in nome di un sentimento come l'amore che è importante ricordare che ogni tanto può essere anche infinito, anche se non lo è sempre purtroppo. Tra i vari brani che voi fate poi questa è una ballard, perché comunque probabilmente da un seguito ai vari brani che avete fatto perché salvare il cuore è un'illusione, probabilmente potrebbe essere un seguito teologico a tutta questa storia di questi tre brani? Alla fine questo discorso? Sì, in realtà il filologico che noi abbiamo trovato è più, cioè che abbiamo seguito è più sulle tematiche, no? Quindi Save This Art parla di un tema che è l'isolamento sociale, quindi del sentirsi da soli e del sentirsi abbandonati. In Bellusion parla appunto, come dicevo prima, di credere nelle proprie possibilità e Endless Love appunto è una storia d'amore che dovrebbe essere per regolette quello a cui uno aspira diciamo in una relazione, avere una persona pronta a sacrificarsi così in nome dell'amore per te. Questi appunto sono tre temi che riguardano secondo noi persone della nostra età che possono sentirsi o isolate o sfiduciate verso se stesse oppure verso l'amore e quindi questo è un po' il filone che abbiamo voluto tenere per questi singoli. Nella realizzazione dei testi, essendo che voi scrivete molto in inglese, quindi la base dell'inglese, comunque prevedete essere un po' più longevi oppure proprio sintetici, ermetici, un po' più chiusi appunto come l'inglese? Oppure scrivete i testi in italiano e l'interrucente oppure direttamente scrivete in inglese? No, allora di solito scriviamo direttamente in inglese principalmente per una questione di diciamo di come suonano le parole, nel senso che avendo appunto band, le band che ci influenzano principalmente sono estere o americani o inglesi, comunque che cantano in inglese, le melodie, i suoni, i tipi di musica che facciamo è più facile con dei testi in inglese, quindi teoricamente e di solito noi scriviamo principalmente in inglese per quel motivo. Le canzoni in italiano sono, te deve venirti un po' l'idea giusta per avere il pezzo adatto, insomma, che adesso poi non facciamo spoiler però work in progress diciamo. E invece una realizzazione di una canzone nasce prima un riff, un beat, oppure viene qualche mente, qualche parola da generale per la canzone, oppure possiamo dire accidentalmente possono venire insieme? Beh, possono succedere entrambe le cose. Per Save This Art ad esempio eravamo partiti a scrivere da un riff, mentre invece per Endless Love eravamo partiti appunto con l'idea di voler raccontare questa storia e in realtà poi siamo partiti da degli accordi e abbiamo scritto il pezzo partendo da lì. E in realtà cosa ancora più strana che possono succedere, un po' a caso appunto, c'è un altro dei pezzi a cui stiamo lavorando, che ancora è un inedito e non è ancora stato mai suonato, pubblicato da nessuna parte, che è nato appunto da un suono generato abbastanza casualmente che abbiamo sentito e abbiamo trascritto sulla tastiera questo suono che abbiamo sentito e siamo partiti da quello poi per scrivere il pezzo e quindi è una cosa nata molto casualmente, perciò una canzone può nascere da qualsiasi cosa se si ha l'ispirazione giusta. E invece abbiamo visto che degli altri, dei tre brani d'ultimo usciti, soltanto uno è uscito con il videoclip, da chi nasce quell'idea, in quel caso questo videoclip e poi come siete sviluppate? Come vi siete trovati sul set alla fine? Allora, il video del video è stata principalmente perché questa era una storia molto importante per noi ed era probabilmente uno dei pezzi che sentiamo più nostri a livello di tematica perché tutti noi abbiamo vissuto veramente in maniera molto seria questo tema e siamo sicuri che più di qualcuno lo viva e quindi possa rivedersi in questa canzone, in questo pezzo, in questa storia e perciò ci sembrava giusto raccontarla con un video che fosse il più chiaro possibile per passare il messaggio giusto e non lasciarla, diciamo, solo alla musica, avere anche qualche strumento in più. L'idea del video poi in sé è nata da noi, l'abbiamo sviluppata poi con Giovanni Maresca, che è il ragazzo che ha registrato il video per noi, che ci ha dato un sacco di bellissime idee, come ad esempio quella di inserire le maschere che sono presenti nel video. Appunto ogni maschera è diversa e rappresenta una delle possibili ansie sociali, insomma, che possono creare problemi nei ragazzi, ad esempio c'è la depressione, c'è il dubbio di se stessi, c'è il pregiudizio, quindi tutte cose che possono essere molto comuni, insomma, tra le persone. E sul chat è stato veramente bellissimo girare, un'esperienza, penso che ci ha segnato molto, perché era il primo che abbiamo realizzato e è stato veramente bello poter fare una cosa del genere per un tuo pezzo e ti dà proprio la misura di quanto sia bella la storia che stai raccontando, se ovviamente ne sei convinto. Per il risultato finale che abbiamo ottenuto, noi siamo veramente soddisfatti del messaggio che portiamo e quindi c'è veramente un'esperienza incredibile. E invece la copertina dell'ultimo singolo, da chi nasce questa idea di questa scalinata che porta verso, non si sa, verso un infinito che poi probabilmente è il cielo, ma comunque non è alzuro, ma è perfettamente confuso con lo stesso paesaggio. Sì, la copertina l'abbiamo pensata su un'idea di incertezza, appunto, perché la scalinata non arriva da nessuna parte in realtà. Quindi in questo contorno, che è un po' a degli elementi quasi diliaci e degli elementi un po' più upi volendo, c'è questo contrasto per il quale una scalinata che porta verso l'alto, ma in realtà senza avere una meta definita, che è appunto quello che fa la ragazza, quello che sceglie la ragazza. Il nome del suo ideale idilliaco, che è l'amore, decide di intraprendere questo percorso, anche se non sa poi dove la porterà. E tutto appunto in nome di questo sentimento. Quindi questa è l'idea che c'è dietro. E invece poi avete portato chiaramente i parabrani dal vivo. Qual è stata la prima sensazione che avete avuto al debutto sul palco, soprattutto di fronte avendo un pubblico che inizialmente è silenzioso, ma poi è iniziato a trasmettere più che con i gesti, con le parole, con quell'energia che dal palco è salita verso di voi e voi avete ritrasmesso con la vostra musica, che poi voi siete concentrati. Però non sentendo tanto le voci, ma sentendo proprio l'energia che saliva. Qual è la tua sensazione, la vostra sensazione con il band, che un momento, che avete provato? Beh, è sempre una sensazione bellissima avere il pubblico che ti trasmette il calore giusto, soprattutto perché Endless Rob in particolare è un pezzo un po' diverso da quello che facciamo di solito, perché è una ballad, quindi è una cosa un po' più morbida e a tanti può non piacere, poi anche dal punto di vista armonico è una cosa un po' più complicata rispetto al solito, quindi avevamo qualche dubbio che potesse piacere, però effettivamente tutte le volte che la suoniamo il risultato è veramente bello e la risposta del pubblico è sempre incredibile, quindi noi siamo veramente... è veramente una cosa indescrivibile, penso, la soddisfazione che si prova per un lavoro che non può essere retribuito in modo migliore, cioè non c'è modo migliore di farci sentire appagati che non avere un pubblico che ci dimostra calore per quello che stiamo suonando e ci fa capire che gli piace quello che facciamo e che ci capisce quello che stiamo suonando e gli arriva la sensazione che noi vorremmo fargli arrivare e anche perché dopo tutto il lavoro che c'è dietro per la scrittura, la stesura, l'arrangiamento, eccetera, è veramente bello vedere che poi il messaggio arriva. Appunto, scendendo poi al palco incontri queste persone che ti guardano e con gli occhi, più che il viso, più che quelle parole ti esprimono quella sensazione, per compreso, per fatto parte propria quella sensazione che voi cercavate di dimostrare, a quel punto vedendo i loro sguardi che c'avevi davanti, che ti hanno chiesto, forse qualcuno il selfie o qualcuno l'autografo, però qual è la tua sensazione in quel momento che ti accorgi, che senti che probabilmente quel messaggio che gli stavi dando è stato ricevuto e a quel punto qual è la tua sensazione, la vostra sensazione, perché poi tutta la band ha questa sensazione probabilmente. Sì, no, certo, no, la sensazione è sempre al limite dell'incredulo, penso, perché noi comunque siamo ragazzi che hanno 20, 18 e 16 anni, quindi molto giovani e che scrivono comunque pezzi su temi che possono essere complicati da trattare. Per noi vedere sia ragazzi più giovani di noi, sia nostri coetanei, che anche gente più vecchia di noi, insomma, che ci viene a fare complimenti per i pezzi, che ci dice che sentono, si sente proprio il sentimento che noi stiamo provando a trasmettere, addirittura c'è stata una ragazza che ci ha detto che la nostra musica le ha fatto, cioè, vederci suonare dal vivo i nostri pezzi e le ha proprio dato una nuova gioia di vivere, a quanto ha detto, e in questo caso sono cose veramente per noi impagabili, cioè, sentire di fare la differenza in questo modo è una cosa che non riusciamo ancora neanche a concepire, nel senso che anche solo che una persona venga a dire a noi, vederci suonare dal vivo mi ha fatto cambiare prospettiva sulla mia vita, perché mi ha dato una nuova energia, una nuova motivazione, dei nuovi spunti, delle nuove cose, che anche solo una persona venga a dircelo è veramente incredibile. Abbiamo già dimenticato una cosa fondamentale, in grado vogliamo citare gli altri membri della band, perché noi abbiamo parlato sempre della band, ma non abbiamo mai detto i nomi. Sì, siamo allora io che suono al basso e canto, principalmente suono al basso, poi c'è Giorgio Romanin alla voce e alle tastiere, Andrea Zilli alla chitarra e alla voce e Davide Romanin, il più giovane del gruppo, 16 anni, batteria e voce. Anccome adesso nel moda c'è la cantante donna oppure la bassista donna, quindi anche voi mantenete questo cliché? Sì, no, diciamo che l'idea del gruppo è nata da Davide e Giorgia, che sono fratello e sorella, e hanno fondato, diciamo, sono stati i due che hanno avuto l'idea per l'idea del gruppo, e poi Davide suonava in una scuola di musica dove suonavo anch'io e anche Giorgia, e quindi noi ci conoscevamo, e a un concerto hanno visto suonare anche Andrea, con un'altra scuola di musica, e quindi poi ci siamo uniti e sì, perciò si ha coordinato il gruppo, insomma. Quindi sulla stessa linea di Vanishance che è il fitato, ma anche Carberries e tanti altri band, però anche attualmente una band femminile spagnola sta andando molto forte, tutta femminile. se invece a questo punto avessi la possibilità di avere un pulsante magico e salire su un palco, nello spazio e nel tempo, indifferentemente da oggi o che è stato nel passato o nel futuro, su quale band vi piacerebbe suonare insieme alla stessa band e dire sto suonando con quella band, con quale band vi piacerebbe suonare? Allora, qui sarebbe difficile da dire, nel senso che ce ne sarebbero veramente tanti. Personalmente, beh, sicuramente i Linkin Park sarebbero, non so, ovviamente non si può, però abbia ragioni, in base all'anima sua Chester, però quello sarebbe veramente incredibile, prescindendo da spazio e tempo, poi, beh, gli Evan Essence, ovviamente, la band è incredibile, ma anche i Paparocci, di cui ho la maglietta, tra l'altro sono state una delle prime band, la prima band metal che sono andato a vedere suonare dal vivo, quindi un'esperienza molto, molto bella, poi ci hanno dato moltissime influenze, perciò anche lì sarebbe veramente una cosa incredibile, incredibile suonare con loro, poi ce ne sono un sacco, veramente, perché potrei citarti anche gli italiani, la Cuna Coil, per esempio, o non lo so, anche i Paramore, per dire, o tante altre band, veramente, sì, non... A questo punto, invece, passare da spettatore sotto il palco, che cantavi le canzoni del gruppo che ti piaceva che stava sopra il palco, a essere protagonista del palco, quali le due sensazioni, quale le due emozioni che vivi, hai vissuto e vivi, perché alla fine ancora sotto il palco ci va anche per gli altri. Beh, assolutamente. Eh, no, è una cosa... Diciamo, allora, cambia un po' la prospettiva quando vai a vedere i concerti, perché oltre a il solito cantare i pezzi, c'hai anche un, ah, guarda la parte di batteria, potrei fare anche io così, ah, guarda che bel gioco di luci, potremmo metterlo nel prossimo live, e quindi c'è anche questa parte un po' il difetto professionale. Però, sì, la sensazione di essere dall'altra parte ogni tanto è veramente, non lo so, un motivo di orgoglio importante, secondo me. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di suonare tanto, e in alcuna occasione abbiamo avuto modo di portare un pezzo della mia band preferita. fanno un genere prettamente un po' più spinto del nostro, si chiamano Einstein Kills, e sono un po', almeno per me, il motivo per il quale iniziato a suonare, nel senso che sono quelli che mi hanno dato una passione per la musica dal vivo. E questa estate abbiamo avuto modo di portare ai nostri concerti un loro pezzo, una nostra cover, insomma. E quella è stata veramente un'emozione incredibile suonare un pezzo di una band che per te ha dato così tanto, ma come è stato anche per gli altri, insomma. Avere dei pezzi di band che sono state così importanti per te, poterle suonare, ma anche i tuoi pezzi vale lo stesso discorso. e poterle suonare davanti a un pubblico esattamente come fanno loro, ti senti veramente una star in quei momenti, e sembra di vivere un sogno. Avete suonato anche in Germania un festival, che cosa ci racconti di questa avventura, che non sarà l'unica, quindi nel futuro ci saranno altri, ma a questo punto che cosa ti racconti, cosa ti ricordi di quell'avventura in Germania, e come vivono la musica, diversamente dall'Italia? Eh, la vedono molto più, molto più come figura professionale, nel senso rispetto all'Italia c'è un'attenzione maggiore rispetto al musicista. Per esempio, per dire, noi eravamo l'unica band italiana al festival, e banalmente l'accortezza di avere un camerino che ci hanno preparato nel backstage, cioè avevano lasciato i bigliettini con le traduzioni in italiano di tutte le parole, tutte le cose scritte che avevano lasciato, poi il discorso di avere comunque un camerino con un frigo bar, eccetera, tutte le comodità per farti stare esattamente allo stesso livello a cui stavano gli headliner della serata, e anche il discorso di avere tante comodità in più, come la navetta che accompagna gli artisti dall'hotel al palco, è un'organizzazione da quel punto di vista molto importante. Poi dal punto di vista di gente che lavora sul palco, eccetera, il livello è ovviamente professionale dappertutto. Però sì, il musicista in generale all'estero mi è trattato in modo più curato, diciamo, con un occhio un po' più attento. E l'esperienza in Germania è stata veramente una grande cosa, anche perché abbiamo avuto l'opportunità di suonare e di conoscere band importanti in Germania, abbastanza conosciute anche in generale, è un sacco di gente veramente piacevolissima e con la quale siamo in contatto tuttora. Sì, è stata veramente una bellissima esperienza, anche perché è stato il concerto finora più lontano che abbiamo fatto, quindi è una trasferta importante. E sì, è stato veramente un ricordo molto, molto, molto positivo. A questo punto, oltre a promuovere questo brano, quali sono i progetti futuri, imminenti o molto più lontani? Allora, adesso a breve, non possiamo ancora ufficializzare la data, ma a breve uscirà un nuovo singolo. Dopodiché il progetto un po' più a lungo termine è ovviamente per un album. Ancora anche lì non abbiamo una data certa, nel senso che ci sono ancora un paio di piccole cose da definire, però comunque i lavori sono quasi al termine, quindi poi arriverà anche l'album. E invece la versione sarà soltanto digitale, oppure come noi in popolo retro avremo una forma tangibile, toccabile. No, ovviamente avremo anche tutte le forme tangibili, anzi guarda, io sono proprio gran fan delle forme tangibili con vinili, cd eccetera, siamo pieni. Anche la musica a setta. Però quello ne manca il manzo a cassetta, quindi... In compenso al giradischi. E no, quindi assolutamente, anche perché noi siamo i primi a voler ascoltare, ad essere curiosi di sentire il nostro album in vinile quando sarà pronto, quindi assolutamente sì, ci saranno anche delle modalità fisiche. A questo punto intanto noi ci metteremo in una lista di attesa, poi soprattutto aspetteremo che esca così, ci lo presenterete dal vivo, ci riascolteremo e ci racconterete appunto da oggi a quando uscirà il disco, cosa è cambiato e com'è cresciuta la band. A questo punto ci mancano solo due cose fondamentali, se non puoi aggiungere qualcosa. No, beh, anche noi ovviamente siamo super in fibrillazione per l'album, perché ormai i pezzi sono quasi tutti finiti, abbiamo il lavoro quasi al termine, quindi noi siamo veramente super entusiasti e non vogliamo l'ora di farlo uscire, di poter anche per suonare i pezzi dal vivo, portarli ai concerti e la risposta della gente a questo e noi vediamo l'ora proprio. A questo punto ci mancano che ci dite gli indirizzi dove mettervi raggiungere e i saluti finali. Allora, per trovarci potete trovarci su Instagram come Final Stage Official, su Facebook come Final Stage, su TikTok come Final Stage e su tutti gli altri digital store, quindi Spotify, Apple Music, iTunes, eccetera, sempre come Final Stage. Saluti finali, ringraziamo tutti coloro che sono rimasti a vederci. Grazie mille a te per l'invito prima di tutto. Ci diamo appuntamento? Ci diamo appuntamento alla prossima, all'uscita dell'album. All'uscita dell'album, così lo faremo vedere. Gli aggiornamenti. E faremo vedere dal tangibile il disco in modo che... Assolutamente sì. E tutti, mi raccomando, tutti ascoltate il vostro disco. E tanta buona musica. Grazie mille. Studio 7 TV e Sport Picciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Ospite della puntata.